Buongiorno, faccio una piccola presentazione, mi chiamo Eleonora Binda, i miei figli studiano entrambi in questo istituto, Jacopo il Maggiore a settembre frequenterà il quinto anno del liceo giuridico economico, Pietro il Mezzano di due anni minore di Jacopo ha appena concluso la seconda linguistico moderno. Abbiamo valutato la scelta degli studi superiori di Jacopo e Pietro confrontandoci in famiglia come siamo soliti fare per tutto. Quando abbiamo deciso di procedere con l'iscrizione di Jacopo eravamo in possesso di feedback già molto positivi sulla scuola sia per l'alta professionalità e competenza dei docenti che per la validità e l'efficacia del metodo didattico. Oggi posso solo confermare quanto ci avevano riferito e personalmente mi fa piacere raggiungere una nota di merito squisitamente personale. Per noi questa scuola è speciale perché ci ha fatto raggiungere l'equilibrio. Mi riferisco all'effetto che l'ambiente, il metodo soprattutto la sensibilità del corpo docente ha avuto su Jacopo. Lo stretto rapporto che si è creato tra noi e i docenti, tra noi famiglia e i docenti, gli stimoli, la continua attenzione anche per attività extrascolastiche, hanno fatto in modo di accompagnare Jacopo in un percorso di studia e di crescita personale, trasformandolo da ragazzino ribelle, insicuro e con bassa autostima in un giovane adulto, vivace ma responsabile, incentivandolo a mettere la sua personalità esuberante a totale disposizione dei suoi traguardi scolastici e della sua maturità sociale. Per tutta la nostra famiglia l'equilibrio di Jacopo ha rappresentato stabilità e serenità ed è stato un successo condiviso che scelgo di portare come prova di competenza e capacità di questa scuola. In modo diverso ma analogo sta frequentando Pietro che pur con un temperamento molto differente dal fratello maggiore sta gradatamente formando molto positivamente la propria identità e la propria visione del futuro tra questi banchi. Anche per quanto riguarda la didattica a distanza ritengo che la nostra scuola si sia dimostrata al di sopra delle aspettative sia per avanguardia tecnologica che per disponibilità professionale didattica dei docenti e perché sono riusciti ad affrontare questa emergenza che ha preso la sprovvista tutti quanti in un modo meritevole. Ringrazio tutti per l'attenzione e porgo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i genitori che stanno affrontando questa scelta davvero importante per il futuro dei loro figli e dei loro ragazzi. Grazie